E' una direzione, c'è un titolo che dice verso altre mare, quindi c'è questa indicazione, questa direzione, questa freccia, non so come dire, che tende verso oltre mare, colore, oltre mare sulla terra. Quindi è una situazione di energia, c'è una tensione, c'è questo peso della pietra, che anziché essere preda totale della forza di gravità, che la terrebbe al suolo, è in tensione, tende verso oltre mare, verso dove c'è il colore, e quindi diventa una pietra viva, una direzione viva, che veramente tira verso l'oltre mare. Il lavoro con la tuga è un'altra storia, insomma. Parla di un'opera che ogni giorno ha la possibilità di essere ricreata, di presentarsi come appena fatta, come fresca, come nuova, con delle forme anche un po' diverse del giorno prima, perché la tuga, l'una e l'altra, sembrano uguali, ma uguali non sono. E questo in genere succede con un'opera riuscita.